Valorizzazione della sanità pubblica e della medicina territoriale e un maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni che riguardano il mondo della sanità. Sono gli obiettivi del neonato coordinamento che ha riunito i comitati sorti nel tempo in città e provincia. Una lettera è stata inviata al presidente della conferenza territoriale sociosanitaria Lucia Fontana per chiedere un incontro. Primo nodo da affrontare secondo il coordinamento sono le liste d'attesa. Noi abbiamo cercato di spiegare quali sono le caratteristiche di questa medicina territoriale, cioè la questione delle case della salute, rafforzamento delle case della salute, dell'RSA eccetera eccetera e evitare il depotenziamento degli ospedali di provincia che è un processo che è avvenuto nel corso del tempo un po' silente ma progressivo e continuo a favore della centralizzazione dei servizi all'interno dell'ospedale di capoluogo. Ecco noi vorremmo allora per confrontarci su tutti questi temi abbiamo inviato una lettera alla presidente della conferenza sociosanitaria proprio per dialogare, per rappresentare quelli che sono i problemi urgenti come ad esempio la questione delle liste di attesa per le liste specialistiche eccetera che purtroppo hanno delle difficoltà notevoli e poi abbiamo chiesto anche un incontro con le confederazioni sindacali proprio per confrontarci sulla questione delle organici e anche del trattamento economico. Chiediamo più sanità e una migliore qualità della sanità, non vorremmo che fossimo confusi con chi va contro la costruzione del nuovo ospedale. Noi riteniamo che se le risorse sono scarse bisogna decidere che cosa fare per il meglio per tutelare il diritto dei cittadini. Forse la costruzione del nuovo ospedale non è la cosa più urgente, le cose più urgenti sono altre.